Sì, ma l'ubietto è proprio perché senti io, perché senti io? Chi è? Otto! Guardate qua! Guardate qua! Guardate qua! È il nero, è il nero! È il nero! Guardate qua! 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 Vedi? Ah, ma c'è Caterina, ciao! Ciao cari, ciao! A me stai? Bella luce, ti vedi i capelli in blu, è impressione lì! Bene, bene, bene! Hai cambiato look! Guarda, qua c'è il traghetto, non so se si vede. Lo vedi? Qua sta appena arrivando. Arriviamo, Chiara! Aspetta, ma deve partire qui. Chiara, ma deve partire. Chiara! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.